orco ORCO OOOOOHH OOHHHHH OOOOHHHHH ORCO ORCO COSA MI HA CADDO DELL'OPPRESSOR SOPRA NO, cioè ho fatto un giro della morte e mi ha caduto dell'oppressor sopra dopo sto flippando su youtube e ti faccio Ma che cazzo sto vedendo Aspetta un attimo che Non riesco ahh ok Ma che